Continuiamo a parlare di acidi e basi. Dopo aver visto nel video precedente la teoria di Arrhenius, parliamo ora della teoria di Brunstedt e Lowry, due scienziati che in modo indipendente formularono una nuova teoria acido-base. Qualsiasi molecola o ione che può donare un protone è un acido. Qualsiasi molecola o ione che può accettare un protone è una base. Una cosa importante è che un acido agisce da donatore solo in presenza di una sostanza che accetti il protone, cioè di una base, e viceversa. Cioè una base accetta un protone solo se c'è una specie chimica, l'acido, che lo cede. In base a questa definizione gli acidi di Arrhenius rientrano nella definizione di acidi di Brunstedt e Lowry, perché la presenza del protone è fondamentale in entrambe le teorie. Ma in questa teoria non è più necessaria la presenza delle sostanze in soluzione acquosa. E una reazione acido-base consiste quindi in un trasferimento protonico. Come detto, il presupposto di questa teoria è che ci sia un composto che si comporta da acido e uno che si comporta da base. Introduciamo questo concetto. L'acido viene trasformato nella sua base coniugata e la base viene trasformata nel suo acido coniugato. Se indichiamo in generale con HA un acido e con B una base, l'acido HA si trasforma nella sua base coniugata A- e la base B si trasforma nel suo acido coniugato BH+. Il concetto di acido e base coniugata sta nel fatto che l'acido, perdendo il suo protone, diventa una specie in grado di accettare un protone, quindi diventa una base. Viceversa, la base accettando un protone diventa una specie in grado poi di cedere questo protone e quindi diventa un acido. La reazione che descrive il processo di trasferimento di un protone da un acido a una base si chiama reazione di protolisi. Vediamo alcuni esempi. L'acido cloridrico o cloruro di idrogeno HCl si comporta da acido perché cede un protone all'acqua, la quale si comporta da base, quindi cedendo questo protone l'HCl diventa Cl- e l'H2O diventa H3O+. Questa specie che deriva dalla base è l'acido coniugato, mentre questa specie che deriva dall'acido è la base coniugata. Consideriamo un altro esempio, quello dell'ammoniaca e dell'acqua. In questa situazione è l'acqua che cede un protone all'ammoniaca, pertanto l'acqua si comporta da acido e l'ammoniaca da base, l'NH3 si trasforma nell'acido coniugato NH4+, mentre l'acqua che si comportava da acido si trasforma nella base coniugata OH-. A questo punto notiamo una cosa interessante, l'acqua. Nella prima reazione l'acqua si è comportata da base, nella seconda reazione l'acqua si è comportata da acido. I composti che in presenza di una base si comportano da acido e in presenza di un acido si comportano da base sono detti anfoteri. Possiamo perciò dire che si definiscono anfotere o anfiprotiche le specie chimiche che si comportano da acido in presenza di una base e da base in presenza di un acido. Come abbiamo visto l'acqua può comportarsi da acido o da base. Che cosa succede quando reagiscono due molecole di acqua? Come è facile intuire, una molecola si comporta da acido cedendo un protone all'altra che si comporta da base e abbiamo qui la formazione dell'ione idronio, detto anche ione ossonio, H3O+, ed ione OH-, detto ione idrossido o ione ossidrile. Questo fenomeno è detto autoprotolisi o autoionizzazione. A volte si utilizza la simbologia di Arrhenius più sintetica e quindi si dice che una molecola d'acqua si ionizza in H+, e OH-. Questa è una reazione di equilibrio, perciò possiamo determinare l'espressione della costante di equilibrio. È il prodotto della concentrazione molare degli ioni H+, e della concentrazione molare degli ioni OH-. Questa costante di equilibrio è definita prodotto ionico dell'acqua. è stato determinato che a 25 gradi Celsius sia che la concentrazione degli ioni H+, e la concentrazione degli ioni OH- sono uguali e il valore di concentrazione è 1 per 10 alla meno 7 moli su litro, o 10 alla meno 7 molare. Perciò a 25 gradi la costante di equilibrio che è detta KW è pari a il prodotto delle due concentrazioni, cioè 10 alla meno 7 al quadrato, che ci dà 10 alla meno 14, e questo valore sarà importante quando introdurremo il pH. Come conseguenza di tutto ciò abbiamo che, diciamo neutra, una soluzione in cui la concentrazione degli ioni H+, è uguale alla concentrazione degli ioni OH-, si dice acida una soluzione in cui la concentrazione degli H+, è maggiore rispetto a quella degli OH-, e si dice basica, ovviamente, una soluzione in cui la concentrazione degli H+, è minore di quella degli OH-, notate che sto utilizzando H+, anziché H3O+, perché è una questione di comodità. Ma il fatto che il prodotto delle concentrazioni degli ioni H+, sia costante indica che le due concentrazioni sono inversamente proporzionali, perciò possiamo stabilire se una soluzione è acida oppure no semplicemente considerando uno dei due ioni, in particolare considerando lo ione H+. In questo modo possiamo dire che si dice acida una soluzione in cui la concentrazione degli H+, è maggiore di 10 alla meno 7 e si dice basica una soluzione in cui la concentrazione degli H+, è minore di 10 alla meno 7. Ovviamente sarà neutra una soluzione in cui la concentrazione degli H+, è uguale a 10 alla meno 7. La teoria di Bronsted e Lowry abbiamo visto che estende la teoria di Arrhenes, ma esistono reazioni acido-base che non comportano il trasferimento di protoni. Nel 1923 Lewis ha proposto una teoria alternativa basata sulla condivisione di doppietti elettronici. Un acido di Lewis è una specie chimica ionica o molecolare che può accettare un doppietto elettronico. Una base di Lewis è una specie chimica che può mettere a disposizione un doppietto elettronico. Questa teoria è usata soprattutto in chimica organica. Un acido è anche detto elettrofilo, mentre una specie che si comporta da base di Lewis è detta nucleofilo. Molti cationi metallici, soprattutto quelli di transizione, si comportano da acidi di Lewis in acqua. Tipicamente le molecole il cui atomo centrale non possiede un ottetto completo si comportano da acidi di Lewis, ad esempio il tricloruro di alluminio e il trifluoruro di boro. Qui vediamo il trifluoruro di boro e l'ammoniaca. L'azoto ha un doppietto elettronico disponibile. Il boro in questa situazione ha sei elettroni. Sono i due presenti qui per ciascun legame con il fluoro. Pertanto questo doppietto sull'azoto viene condiviso con il boro. Perciò vediamo che l'ammoniaca mette a disposizione questo doppietto e si comporta da base di Lewis e la specie che accetta questo doppietto, il trifluoruro di boro, si comporta da acido di Lewis. Ragazzi nel prossimo video introdurremo il concetto di pH, vedremo la forza di acidi e basi, pertanto non perdetevelo. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!